ok allora siamo abbiamo fatto il nostro pezzettino quindi il nostro primo piano vediamo adesso come inserire degli elementi per esempio dei tavolini o qualcosa del genere quindi andiamo su tutto cerchiamo tavolo abbiamo dei tavolini ad esempio questo un tavolo quadrato molto semplice lo piazziamo vedete che ci fa vedere l'ingombro quindi quando lo mettiamo vedete che è messo è stato messo in quel posto lì ora possiamo mettere anche altre cose ad esempio un tavolo rotondo prendiamo questo tavolo rotondo lo mettiamo qua e vedete che qui vediamo la nostra piccola ambiente il nostro piccolo ambiente possiamo anche mettere delle sedie sedie sedia e mettiamo la sedia lì magari vicino al tavolo quindi possiamo fare il nostro degli ambientini ora la cosa che è importante qui è che dobbiamo imparare a muovere questi oggetti o ridimensionarli allora il modo più semplice conservate bene e cliccare qua su l'oggettino e vedete che compaiono una serie di simboli quattro simboli uno indica vedete che compare questa allora se andiamo sopra compare la doppia freccia che permette di muovere il tavolo per esempio da altre parti no quindi potete portarvelo in giro e metterlo e disporlo da altre parti se cliccate su questo tondo vedete che potete ruotare il tavolo quindi metterlo in diagonale se vi interessa se muovete su questo che quando compare questo potete elevare e metterlo per esempio sospenderlo a mezz'aria o comunque metterlo sopra un altro oggetto se per caso avete due oggetti tipo un vaso da fiori sul tavolo e se cliccate invece su questa icona qua praticamente si alza la parte superiore del tavolo quindi potete farlo basso o alto a piacere quindi potete farlo ad esempio un tavolino alto 43 centimetri mentre invece se cliccate su questo simbolo qua che non vi ho ancora fatto vedere è praticamente generato e praticamente potete modificare le dimensioni del tavolo quindi farlo stretto lungo tipo panca no quindi per esempio in questo modo abbiamo fatto una panca che possiamo disporre possiamo ruotare e possiamo mettere nei posti che ci interessano quindi possiamo farlo proprio per descrivere gli oggetti vogliamo invece la parte più sostanziale di tutta questa parte qua e poi in realtà mettere dei quadri però sui quadri vi farò vedere un altro piccolo video fra poco quindi per il momento questo terzo video vi ha fatto vedere come si modificano degli oggetti come si importano gli oggetti ah ecco visto che ci siamo se per caso i muri sono fatti male li cliccate e anche sui muri tra l'altro possiamo fare control rotellina e vedete che abbiamo anche qui dei tasti speciali quindi possiamo comunque allungare ad esempio il muro per questo caso per chiuderlo per esempio se uno volesse fare la cosa oppure ancora spostarlo in alto vedete che si sposta tutta la stanza è l'unico problema che appunto non si sposta la porta che dovrete poi portare dietro quindi se volete fare un qualche cosa in cui c'era una porta quindi chiudiamo il muro dovete ricordarvi di portarvi poi dietro anche la porta e anche la porta stesso discorso che potete allargare la porta in modo tale da fare entrare più comodamente le cose le persone gli avatar l'altezza di muri e tutto i due metri rotti quindi dovrebbe essere in teoria abbastanza buono per gli avatar nostri se così non fosse e si può aumentare le dimensioni di muri ma questo lo vediamo poi in un'altra immagine in un altro video e così come vediamo che potremmo cambiare anche il colore dei muri se non ci piacciono grigetti fatti così quindi direi per una terzo piccolo pillola e fine al prossimo per vedere di mettere qualcosa d'altro grazie a tutti